Allontanarsi dalla pista gli atleti che non gareggiano in questa serie unica 100 ostacoli cadenti. Partiti in questa serie unica vediamo già Alessandro Concini e Lorenzo Paissanna che prende la testa di questi 100 metri ostacoli a vai vincere. Grande campione Lorenzo Paissanna che quest'anno sta dimostrando il suo valore realizzando anche un 7-17 a Padova che lo proietta nelle liste all time.